dal vangelo secondo giovanni in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli non sia turbato il vostro cuore abbiate fede in dio e abbiate fede anche in me nella casa del padre mio vi sono molte dimore se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado conoscete la via gli disse tommaso signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via gli disse gesù io sono la via la verità è la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me io sono la via la verità e la vita i discepoli di gesù non riescono a capire ed accettare il fatto che il loro maestro debba morire e lasciarli soli e sono turbati tristi e sconsolati contrastano le affermazioni di gesù e gli fanno domande sul come e perché di tutto questo gesù li rassicura sul significato di quello che egli è venuto a compiere secondo la volontà del padre abbiate fede in dio e abbiate fede anche in me vado a prepararvi un posto presso il padre mio è importante per noi credere alle sue parole io sono la via la verità e la vita la via perché tornando al padre egli ci indica la via da percorrere la meta della sua e della nostra vita dove egli va a prepararci un posto la verità perché la sua dipartita cioè il passaggio da questo mondo al padre sarà il compiemento della sua opera di salvezza infatti solo quando avrà portato a termine la sua missione avrà completato anche la sua rivelazione la vita perché dopo che avrà offerto la sua vita sulla croce e ritornerà da loro essi potranno assaporare la vera vita già su questa terra e poi completamente in cielo è questo che gesù ha promesso ai suoi apostoli e anche a noi che lo accogliamo come il signore crocifisso risorto e vivente